Sono spesso nascosti alla nostra vista Ma sono essenziali per la funzionalità e il design dei mobili che accompagnano la nostra vita quotidiana tecnologia e componenti per il mobile DTC Dontai è un noto marchio di accessori per il mobile e l'arredamento Come gruppo manifatturiero DTC ha creato un potente sistema di produzione grazie a più di 30 anni di esperienza Integrando ricerca e sviluppo e produzione DTC fornisce una gamma completa di accessori di ferramenta alle industrie della cucina, delle camere da letto, del soggiorno, dei bagni e per uffici e negozi Il gruppo possiede 4 siti produttivi con un'area di produzione di 600.000 metri quadrati Essendo stata classificata impresa ad alta tecnologia dalle autorità DTC dispone di un team unico di professionisti della ricerca e sviluppo Il centro tecnico è il centro premiato dal governo nel campo della ricerca e dello sviluppo di hardware per mobili Ogni anno sviluppiamo un gran numero di prodotti con funzioni innovative e protette da brevetti che sono molto apprezzati e sostenuti dai nostri partner commerciali Il centro espositivo per l'innovazione integrato con lo showroom e il centro di comunicazione di formazione e test offre una soluzione completa per i produttori di mobili, gli sviluppatori immobiliari e le aziende di arredamento Nel centro di collaudo, gli standard di qualità applicati in Europa e in altre parti del mondo sono seguiti quotidianamente nel laboratorio di prova in modo che la funzione e la durata dei prodotti siano rigorosamente controllate e monitorate Molte attrezzature di produzione sono importate dalla Germania e dall'Italia Il continuo miglioramento su larga scala ha aggiunto crediti ai nostri prodotti in termini di tecnologia e precisione Con il supporto di un team di tecnici, progettisti di prodotti di alto livello e progettisti di utensili DTC non risparmia sforzi nello sviluppo di vari accessori per il mobile e l'arredamento Il gruppo Dongtai, grazie a un'ampia gamma di prodotti, ha una qualità eccellente e a un servizio clienti attento offre ad ogni cliente una soluzione completa per la ferramenta dei mobili Il sistema di cassetti a doppia parete è adatto a una varietà di mobili da cucina e da bagno di alta qualità Il movimento fluido e la chiusura dolce garantiscono un migliore utilizzo dello spazio interno dei cassetti Le cerniere Soft Close Pivot Star sono regolabili in quattro dimensioni con la possibilità di regolare la velocità di chiusura dell'anta e l'ampio angolo di apertura per un maggiore comfort di accesso Una serie completa di guide per cassetti è progettata per la cucina, il bagno, la camera da letto e i mobili da ufficio Forniamo una soluzione adatta alle diverse condizioni di utilizzo Il sistema di porte scorrevoli è dotato di un meccanismo brevettato di chiusura morbida che consente un'apertura e una chiusura dolce e fluida Il programma di lifter consente di aprire l'anta a ribalta verso l'alto rendendo il pensile facile e comodo d'accesso La porta a ribalta può rimanere in qualsiasi posizione e chiudersi dolcemente DTC migliora la vostra esperienza di vita domestica Con un tema di ricerca e sviluppo di 256 persone, 5 gamme di prodotti, oltre 10.000 articoli 1.284 brevetti concessi in Cina e all'estero DTC non è solo un marchio, ma anche una garanzia di qualità e di prodotti di grande reputazione In quanto marchio di fama internazionale, DTC è ampiamente presente nelle esposizioni e viene spesso esposto negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie ad alta velocità, nelle autostrade, ecc. Per la gestione è stato adottato un solido sistema di gestione della qualità L'automazione è stata ampiamente implementata nei processi di produzione di cerniere e guide per cassetti come l'assemblaggio di stampaggio e l'imballaggio L'impianto di ultima generazione per la protezione delle parti metalliche è realizzata in uno stabilimento specializzato del gruppo La linea di galvanica automatica, priva di cianuro, produce feramenta ecologica che soddisfa le esigenze ambientali per una vita sana Il reparto logistica di DTC dispone di ampi spazi di stoccaggio automatizzati grazie alla tracciabilità con codice a barre e scansione nelle operazioni quotidiane di movimentazioni Le piattaforme di spedizione sono divise in due aree rispettivamente per gli autotrasporti locali e per i container esteri Le spedizioni in uscita sono curati ed efficaci Oggi i prodotti DTC, che entrano in grande quantità nei mercati di fascia alta dei paesi sviluppati sono pienamente conformi agli standard americani ed europei Nei mercati internazionali, grazie alla nostra filiale e collaborazione con le agenzie commerciali i prodotti e i servizi del gruppo DongTai Hardware e il marchio DTC godono di una crescente popolarità tra i clienti di tutto il mondo Professionale, premuroso, ecologico e sistematico il gruppo di feramenta DongTai è un'impresa giovane, dinamica e innovativa Guardando al futuro, DongTai progredirà con i tempi Farà continue innovazioni per fornire soluzioni competitive di feramenta per mobili e continuerà a impegnarsi per creare maggior valore per tutti i clienti Grazie a tutti